Guglielmo Epifani ha preferito aspettare che si concludessero nel weekend quasi tutte le votazioni nei circoli del PD, dove in questa prima fase si sta procedendo all'elezione dei segretari dei circoli e dei delegati ai congressi provinciali per l'elezione dei segretari provinciali, prima di esprimere un giudizio sul loro andamento. Domani si riunirà la segreteria del partito e verrà consultato di nuovo il presidente dei garanti Luigi Berlinguer, per capire se quella che i giornali definiscono l'esplosione anomala del tesseramento è stata circoscritta da alcune realtà locali o è un fenomeno che rischia di dilagare. Sebbene nei giorni scorsi Gianni Cooper lo ha fatto capire che non si impunterà d'oltranza nella richiesta di bloccare il tesseramento, lo scontro tra i candidati resta alto e anche oggi l'ex di Essino ribadisce il suo appello a bloccare le iscrizioni prima dei congressi di circolo. Io ho avanzato una proposta, ho detto, per evitare fenomeni come quelli che sono stati denunciati in questi giorni, alla vigilia dei congressi di circolo che dovranno discutere la scelta della guida politica nazionale del PD per i prossimi anni. Fermiamo questo tesseramento, chiudiamolo alcuni giorni prima, il 5, il 6 di novembre, è il 7 che cominciano questi congressi. Ho detto che non è un modo per comprimere la partecipazione, non è così, non ho proposto di chiudere il tesseramento un anno prima, ma il giorno prima, oltretutto l'8 dicembre saranno primari aperti, aperti a tutti e quindi non c'è nessun problema da questo punto di vista, ma restituiamo un principio di regolarità, di correttezza, di trasparenza, anche di bellezza a questa discussione. A Cooper lo risponde Gianni Pittella, che intervistato su Rai News 24 afferma Chi fa furberie al limite dell'illecito nel tesseramento è un cialtrone. Da questa situazione il PD viene ferito. Fermare tutto sarebbe una foglia di fico che serve solo a lavarsi la coscienza. Pippo Civati a Scati G24 assicura Io sono stato il primo a denunciare dieci giorni fa. Stiamo dando l'immagine di un partito in cui la corsa per il potere è più importante del rispetto delle regole. Spero che si prendano provvedimenti e si annullino i congressi in delle situazioni più drammatiche. Infine aggiunge Non credo ci sia una spinta a livello nazionale, ma non si doveva dare una copertura politica a certe operazioni. Matteo Renzi ha mandato avanti i suoi, preferendo tenersi fuori da un polverone lontano dai problemi reali dei cittadini. Ma per il sindaco deve essere chiaro che il tesseramento non va chiuso, perché l'obiettivo è consentire a chiunque voglia, in vista dell'8 dicembre, di iscriversi e partecipare. Ma se dovessero proseguire le polemiche, Stefano Bonaccini, coordinatore nazionale della campagna di Renzi per il congresso, propone. Per cambiare le regole in corso, come le hanno risposto al di là di Renzi, Civati e Pittella, bisogna mettersi d'accordo e sedersi un attimo, perché vuol dire cambiare le regole che abbiamo votato all'unanimità in una direzione nazionale poche settimane fa. Però vede, io ho risposto così. Allora, perché non andiamo direttamente all'8 dicembre con le primarie aperte, in cui chiunque vuole essere il vettore del PD viene a votare? Ancora pochi giorni alla chiusura di questa frastagliata e convulsa fase dei congressi locali e poi, da questo fine settimana, partirà la corsa per l'elezione del nuovo segretario nazionale del PD. Di nuovo le assemblee nei circoli di tutta Italia e poi l'8 dicembre le primarie aperte.